Sori va in bicicletta a Santa Maria Elisabetta. Ecologico, salutista e un fiantin anarchico-individualista, è avogata a Nacaena, che bagua davanti al Marciapie. Non è colpa mia se il Comune non mette un mierder a straliere per rassare a bicicletta mesi a giornata o 6 mesi, come i sportivi veneziani. Certo, fa da ridere e targhe di divieto e di intimazione. L'autorità comanda, gli altri chiediamo il mezzo e giremo il canton. Siamo d'accordo, c'è un scandalo per l'estetica e il decoro, ma questo c'è il paese di libertà. E non c'è da manco, neanche la nostra municipalità. E non c'è da manco, neanche la nostra municipalità. E non c'è da manco, neanche la nostra municipalità. E non c'è da manco, neanche la nostra municipalità.